Citigroup annuncia il taglio di 11.000 posti di lavoro. Un passo logico nella nostra trasformazione, ha detto l'amministratore delegato Michael Corbett, parlando di aree e prodotti che non offrono significativi ritorni. Dalla riduzione del personale, che toccherà diversi comparti, la terza banca degli Stati Uniti attende risparmi pari ad oltre 750 milioni di euro a partire dal 2014.